Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è il 7 maggio 2013 e leggo qua un dispaccio dall'Ansa. Pietro Grasso, il presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso, non servono senatori a vita. Piero Grasso dice che si tratta di una nomina che risale all'epoca regia, Anza, Roma, 7 maggio. Per quanto mi riguarda, dice il presidente del Senato della Repubblica, Grasso, per quanto mi riguarda, dei senatori a vita se ne può fare a meno, anche perché si tratta di una nomina che risale al periodo regio. Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, intervenendo a radio anch'io. Una notizia dell'ultima ora, come si suol dire. Beh, certo, certo, certo. E' la nostra carta costituzionale che riprende la normativa precedente vigente al tempo del Regno. L'articolo 59 della nostra carta costituzionale stabilisce che il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Andrebbe tutto bene, andrebbe tutto bene se però a seguito di questa nomina a seguito di questa nomina non ci fosse un aggravio nei confronti del pubblico erario perché ogni senatore a vita costa tanto, costa parecchio va modificata in tanti punti la carta costituzionale e va modificata anche in questo punto il presidente del Senato della Repubblica ha posto il problema ecco, per esempio una piccola modificazione consisterebbe nell'abolire tale comma secondo comma, articolo 59 della carta costituzionale e in analogia con la questione della crisi la carta costituzionale la nostra carta costituzionale andrebbe integrata specificando quale debba essere la retribuzione diciamo così dei parlamentari in maniera che finisca la storia la storia dei parlamentari alcuni vogliono rinunciare altri non vogliono rinunciare e che c'è tutto un rimpallo di responsabilità io sono più bravo che sia la carta costituzionale infatti la nostra carta costituzionale è entrata in vigore il primo gennaio del 1948 si era dimenticata di stabilire la paga dei parlamentari avrebbero potuto dire i padri costituenti per esempio che la paga dei parlamentari è legata è legata che so alla paga di 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 un mi si passa in termini di un operaio metalmeccanico oppure alla paga di un impiegato dello Stato alla paga di un carabiniere alla paga di un poliziotto insomma agganciarla a qualcosa no e la carta costituzionale dice soltanto che ci penserà poi il Parlamento a stabilire le paghe tra virgolette le paghe perché non è paga sono monumenti e cose cose di linguaggio più elevato che sarà il Parlamento disse la carta costituzionale sarà il Parlamento a stabilire la paga dei parlamentari per cui i parlamentari che sono lavoratori dipendenti i parlamentari sono lavoratori dipendenti cioè non sono non hanno rischio di impresa lavoratori dipendenti ah no pubblici sono pubblici i parlamentari sono pubblici dipendenti perché ricavano la loro tra virgolette paga dal pubblico erario tutti coloro che ricavano la loro paga dal pubblico erario sono lavoratori dipendenti che si tratti di parlamentari che si tratti di magistrati di generali tutti pubblici dipendenti sono per cui i parlamentari sono gli unici pubblici dipendenti dipendenti statali che la paga se la fanno da soli sono gli unici la paga se la sono fatta da soli e anche in questo caso la costituzione andrebbe non cambiata ma integrata che si dica chiaro e tondo che il parlamentare per esempio ha una paga analoga ripeto a quella di di un di un professore di liceo o analoga a quella di un maresciallo dei carabinieri più ovviamente il rimborso delle spese di vito alloggio e spostamenti vari su mezzi pubblici ecco ecco in queste piccole cose i parlamentari possono dimostrare di tornare ad essere vicini al paese e finalmente è lo stesso presidente del senato che ci ricorda che è il fatto che l'assemblea costituente nel fare la costituzione abbia inserito tra i poteri del presidente della repubblica quello di nominare la bellezza dei cinque nel settennio cinque senatori a vita si rilaccia alla normativa del periodo regio potrebbe anche cadere questa consuetudine nella fase di elaborazione della costituzione repubblicana potrebbe anche cadere bene ora il problema è posto il senatore a vita dice Pietro Grasso non se ne può fare benissimo meno per cui la nostra carta costituzionale che deve essere modificata in tantissimi suoi aspetti potrebbe essere tranquillamente modificata anche nell'eliminare il secondo comma dell'articolo 19 relativo alla facoltà del presidente della repubblica di nominare nel corso del suo mandato cinque senatori a vita e potrebbe anche essere integrata e inserendo qualche comma relativo alla paga dei parlamentari va bene cari amici grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni a tutti i